salve a tutti crononauti e bentornati su spazi attorcigliati io sono sempre davide e come ogni mercoledì siamo qui per parlare di fisica teorica ogni tanto parliamo di teoria delle stringhe ogni tanto parliamo di meccanica quantistica ogni tanto parliamo di teoria della relatività oggi facciamo un passetto indietro parliamo di singolarità ovviamente poi analizzeremo il caso specifico dei buchi neri che sono un esempio di singolarità che in qualche modo ha molto appeal nella divulgazione ma parliamone in generale perché su questo punto c'è molta 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 confusione quando qualcuno menziona le singolarità o le singolarità in relatività generale o i teoremi di perros sulle singolarità perros ha preso il nobel l'anno scorso per i suoi teoremi sulla formazione di singolarità sulla necessità di formazione di singolarità in relatività generale dicevo quando qualcuno parla di singolarità la pone come se fosse una roba che esiste nel mondo come se da qualche parte nell'universo ci fosse un punto magico e dei poteri antichi chiamato singolarità ebbene la faccenda è molto meno mistica di quanto sembri le singolarità sono dei punti in cui le nostre teorie si rompono i nostri modelli smettono di funzionare e non la natura ma per capire cosa questo significhi dobbiamo fare un altro passo indietro come vi dicevo nel video di mercoledì scorso questo sta diventando pian piano il motto di spazi attorcegliati dicevo facciamo questo passo indietro e chiediamoci cosa siano le teorie che elaboriamo in fisica delle teorie sono dei modelli del mondo degli oggetti matematici delle costruzioni matematiche più o meno rigorose questo è tema di battuto naturalmente per un matematico quello che faccio io nel mio mestiere è immondizia da un punto di vista del rigore ma ce ne accontentiamo perché ci permette di lavorare sul mondo poi con qualche decennio di ritardo arriveranno i fisici matematici a tappare i buchi lasciati lungo il mio cammino al nostro cammino dicevo le teorie fisiche sono dei modelli matematici del mondo che ci permettono di fare predizioni sperimentali quindi ci dicono proprio ehi se costruisci un osservabile così e la misuri in quel modo in un sistema fatto così preparandolo in tal modo e con queste condizioni al contorno devi trovare questo numerino o quantomeno questa distribuzione statistica di numerini soprattutto nel caso della meccanica quantistica ogni modello della realtà ogni teoria fisica ha un suo campo di applicazione funziona in certi regimi funziona in certi luoghi funziona entro certi limiti la meccanica di newton è un ottimo modello del mondo e funziona molto bene quando dobbiamo costruire dei ponti costruire degli yo-yo o anche costruire delle automobili non ha alcun senso usare teorie più raffinate della meccanica di newton o in generale della fisica classica e della termodinamica e dell'elettromagnetismo classico a inizio novecento ci siamo accorti che esistono dei luoghi dove queste teorie non funzionano più ovvero abbiamo sbattuto contro il muro che delimita la loro applicabilità al mondo che ci circonda ergo abbiamo sviluppato la meccanica quantistica per studiare quei sistemi non vorrei dire microscopici perché è un pochino impreciso ma tutti quei sistemi in cui h tagliato una costante della fisica che ha le dimensioni di un'azione e qualunque cosa questa sia non è trascurabile ad esempio certi sistemi di meccanica statistica come il corpo nero e poi via giù fino alle particelle tutte queste cose qua ci sono fenomeni genuinamente quantistici che diventano significativi anche a scale macro sarebbe molto difficile parlare di una teoria microscopica classica del magnetismo e avere dei magneti ad esempio però insomma non entriamo in questa sapete che stanno anche costruendo dei computer quantistici tutta questa roba qua ci si aspetta di trovare delle tracce di effetti quantistici nelle misure astronomiche quando parliamo di inflazione e cose così quindi tutt'altro che micro però il discorso si fa un pochino più complicato e la relatività generale perché ci eravamo accorti che la fisica di newton molto buona per descrivere le mele che cadono e anche in linea di massima per descrivere le cose che stanno in cielo non funzionava fino in fondo in quest'ultimo regime poi c'erano alcuni problemi concettuali di unificazione di linguaggio generale di covarianza generale ma ne ho parlato nei video dedicati in descrizione vi lascio il link alla playlist di road to quantum gravity in cui io e daniele oriti ricercatore esperto in gravità quantistica abbiamo parlato prima del problema della relatività generale e del problema della meccanica quantistica e poi dei vari tentativi che oggi si fanno per unificarle quindi vi rimando lì ma andateci dopo la fine di questo video che sarà breve e coinciso e vi dà anche un po di strumenti per orientarvi all'interno di queste playlist un pochino più complicate e tecniche e anche più soddisfacenti devo dire la verità il buon daniele è un pozzo di conoscenza e noi cerchiamo sempre di estrarre tutto quello che possiamo di drenarlo lo sfiniamo quando facciamo le live dicevo relatività generale meccanica quantistica che superano i limiti di applicabilità della fisica classica e della fisica di newton in particolare lo stesso purtroppo vale per queste due teorie meccanica quantistica e relatività generale potenzialmente possono avere dei limiti di applicazione nel caso della meccanica quantistica ci siamo accorti che non riusciva fisiologicamente ad incorporare la relatività speciale che quella cosa che ci dice oggi come passare da un sistema di riferimento all'altro e abbiamo sviluppato la teoria quantistica dei campi nel caso della relatività generale abbiamo un'altra serie di problemi che ad oggi non sono risolti il primo è che non riusciamo ad accoppiare la gravità quindi far funzionare la gravità con la materia come descritta dalla teoria quantistica dei campi quindi con della materia quantistica ma questo è un problema che oggi lasciamo da parte il secondo è la presenza di singolarità luoghi dove la nostra teoria esplode e noi dobbiamo interpretare questi luoghi come delle bandierine rosse quelle che ti dicono che lì non devi nuotare in mare che ci avvertono che attenzione sì la tua teoria è bella goditela vantati di quanto sia bella ma qui c'è bisogno d'altro qui hai superato il limite sei in una no go zone hic sunt leones la tua teoria non funziona più devi usare una teoria migliore quando vediamo questi infiniti prima di pensare che sia l'universo in qualche senso sputar fuori degli infiniti e sarebbe un bel problema se ciò accadesse davvero dobbiamo ragionare attorno alla nostra teoria parliamo dei buchi neri cosa sono i buchi neri i buchi neri sono delle soluzioni alle equazioni di campo di einstein della relatività generale strutture sufficientemente compatte da far sì che nemmeno la luce riesca a sfuggire alla trazione gravitazionale se non riesce la luce non riesce nulla perché la velocità della luce nel vuoto è un limite strutturale geometrico alla velocità dei corpi nel nostro universo in particolare quelli privi di massa vanno a quella velocità nel vuoto per ogni osservatore quelli con massa possono provare ad avvicinarsi ma ci vuole sempre più benzina non raggiungono mai la velocità della luce tendono asintoticamente alla velocità della luce ci vuole più sforzo più più spinta e non ci arrivano mai purtroppo a meno di fare una dieta sufficientemente buona da raggiungere massa zero e quindi essere costretti a muoversi alla velocità della luce ma dicevo buchi neri oggetti da cui nemmeno la luce può sfuggire al centro sono configurazioni dello spazio tempo vanno intesi in questo senso in altri video raccontavano che raccontavo che da una parte sono gli oggetti più semplici perché sono caratterizzati da pochi numeri e molto facili da descrivere classicamente e dall'altro gli oggetti più complessi perché saturano certi bound di entropia e di informazione nel senso che sono gli hard disk più efficienti dell'universo un buco nero satura il limite teorico massimo di stoccaggio di informazione in un certo volume satura il bound di bergenstein per intendersi perché è un pochino più tecnico ora i buchi neri al centro presentano una singolarità quindi noi abbiamo questo guscio questo orizzonte degli eventi questo guscio di velluto da cui nulla può uscire senza violare la causalità quindi quella cosa che preserva per tutti gli osservatori i rapporti causa effetto nel nostro universo dentro c'è una regione di spazio tempo dove tutto sommato non è detto che ce la si passi così male nemmeno all'orizzonte diciamo ho la sensazione che la comunità abbia un po' abbandonato tutte le ipotesi di firewall e al centro c'è una singolarità un luogo dove il campo gravitazionale è così intenso da schizzare all'infinito la curvatura dello spazio tempo schizza all'infinito perché in relatività generale e l'abbiamo detto un milione di volte la gravità intesa come curvatura dello spazio tempo che un oggetto dinamico che interagisce con i corpi che ci mettiamo sopra mi ripeto ma voglio che questi concetti passino e passino in modo chiaro e ogni volta poi ce li rigiochiamo e li rimastichiamo in luoghi nuovi in contesti nuovi per studiare nuovi problemi perché la fisica teorica è fatta così pochi concetti chiari che usiamo come strumenti come cacciaviti e chiavi e piedi di chiavi inglesi piedi di porco per capire sempre nuovi problemi so che il liceo tendenzialmente non fa passare questo messaggio ma la fisica è davvero fatta di poche buone idee che usiamo in tanti modi diversi perché sono per fortuna molto generali questa singolarità cosa ci dice ci dice che quando il campo gravitazionale diventa tanto 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 intenso e lavoriamo su scale molto 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 piccole le due cose sono in qualche modo legate perché il campo gravitazionale diventa più intenso mano a mano che ci avviciniamo alla sorgente di questo campo gravitazionale la relatività generale fallisce è come un cibo scaduto è come tentare di usare il cacciavite sbagliato su una vite e conosco la sensazione perché ho costruito io questa scrivania con tanta fatica e facendomi molto male alle mani perché sono completamente imbranato dicevo la nostra cassetta degli attrezzi non ha più degli attrezzi efficaci per spiegare come funzioni il mondo in quel punto e allora abbiamo bisogno di una teoria nuova ed è per questo che ogni teoria di gravità quantistica quindi ogni ipotesi ogni modello che speriamo possa sostituire incorporare fondere i principi della meccanica quantistica nella sua formulazione di teoria quantistica dei campi e la relatività generale quindi quella teoria che dovrebbe sostituire estendere espandere la relatività generale cioè non toglie che la continueremo a usare come usiamo la meccanica di newton ma dice lo step successivo che noi chiamiamo gravità quantistica proprio perché ci aspettiamo che incorpori i principi di questa nuova dinamica di inizio novecento nella teoria della relatività generale quindi nel contesto di uno spazio tempo dinamico deve in qualche modo ci aspettiamo che risolva il problema della singolarità nello specifico risolva la singolarità quindi la sostituisca con un pezzetto di spazio tempo fatto in modo diverso quindi idealmente quando noi avremo una teoria di gravità quantistica ancora vi rimando vi rimando alla serie di video fatti con daniele trovate ripeto ribadisco il link in descrizione quando noi avremo una teoria di gravità quantistica è del tutto lecito aspettarsi che questa teoria ci dia una risposta diversa su quella regione e ci dia una risposta più ragionevole senza infiniti senza esplosioni senza singolarità perché è questo che vogliamo che la teoria faccia è quasi ribaltata la questione una teoria non in grado di risolvere le singolarità non è una teoria di gravità quantistica così interessante o sufficientemente matura da essere di interesse pubblico per la comunità quindi questa è quasi una delle richieste minime che facciamo a una teoria di gravità quantistica io vi ringrazio per essere arrivati fin qui ho detto la parola quantistico tante volte sul canale e in descrizione trovate una playlist meccanica quantistica fondamenti ed interpretazioni che è l'occasione in cui più siamo entrati nella questione della meccanica quantistica discutendola fino ai minimi dettagli e partendo da zero quindi se volete capire la meccanica quantistica a livello divulgativo quello è pane per i vostri denti e c'è tanto tanto materiale tanta 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 roba per farvi esplodere le cervelle e se questo video vi è piaciuto vi chiedo non solo la gentilezza di commentarlo condividerlo e tutta quella roba che serve a far crescere il canale come l'iscrizione eccetera eccetera ma di andare a recuperare il mio video sui viaggi nel tempo perché se parlare di singolarità e buchi neri vi ha incuriositi parlare di fattibilità tecnica dei viaggi nel tempo all'interno della relatività generale vi farà andare fuori di testa grazie crononauti e ricordate che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa a presto